impossibile è tremenda è da denuncia uno non si può presentare tutto così le mannano certificato ma d'ufficio di genere dai basta ragazzi per favore smettitela che si offende dai no 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 falli divertire si divertono così no de profilo no non lo posso vedere portatelo portatelo eccomi qua è terribile è terribile divertitevi no dai no dai